dal 2014 infocamere è il primo operatore in italia per la gestione del codice lei un codice alfa numerico che permette di identificare a livello globale in maniera univoca i diversi soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari grazie ad infocamere il rilascio del codice lei è ora più semplice avrai a disposizione una piattaforma specifica che ti consente di gestire attivare e rinnovare il codice aderire al servizio infocamere rappresenta per te un'opportunità concreta di adottare soluzioni di business legate al codice lei aderendo alla piattaforma infocamere lei business avrai assistenza e supporto sul territorio italiano e accesso ad offerte vantaggiose infocamere ancora più vicini ancora più connessi